Rotary Club e Innerwill di Isernia hanno provveduto a pulire il monumento di piazza stazione intitolato L'incontro, realizzato nel 1998 dallo scultore Pietro Cascella. Non è bastata l'idropulitrice per rimuovere lo sporco e lo smog che si sono depositati negli anni sul monumento. Una ditta specializzata ha dovuto infatti sabbiare la pietra per ridonare al monumento l'iniziale splendore. Rotary e Inner hanno così voluto donare alla città di Isernia in occasione del Natale, un intervento di manutenzione straordinaria di uno dei monumenti più importanti della città. Tutta la zona sarà curata d'ora in avanti dalle due associazioni anche con interventi sul verde pubblico affinché la zona della stazione torni realmente ad essere un luogo di incontro dignitoso per tutti i cittadini. Abbiamo proposto questa iniziativa all'amministrazione comunale che devo dire ha risposto con celerità anticipando i tempi della delibera per permettere la pulizia di questo importante monumento prima del Natale. Questa è una cosa che ci fa molto piacere perché oltre la pulizia noi ci prenderemo cura anche del verde che è circostante l'opera assieme all'inner wheel che ci supporta in questa attività. Un forte segnale di prossimità che state dando alla cittadinanza? Sì, devo dire che questa è l'essenza del Rotary perché il Rotary si occupa di azioni concrete sul proprio territorio per la propria collettività. Questo è solo l'inizio per quanto riguarda il mio anno da presidenza di attività che stiamo mettendo in campo e posso anticipare che ce ne saranno anche altre nei prossimi mesi. Quindi diciamo che il Covid non ci ferma nelle azioni che vogliamo portare in campo per la nostra collettività. Vi state muovendo comunque anche sul binario della solidarietà. Nello scorso fine settimana c'è stata la consegna dell'assegno alla Caritas. Sì, siamo stati davvero molto felici di poter donare, fare un piccolo contributo diretto alla Caritas, quindi all'emporio della solidarietà e devo dire che con il supporto di sua eccellenza il Monsignor Cibotti abbiamo portato a compimento questa cosa che ci pareva per il momento davvero la cosa più importante e più concreta da fare.